Critiche sono arrivate sul DUP presentato dal sindaco di Pescara Carlo Masci, dalle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle questa mattina presenta il suo documento unico di programmazione. Quali sono, consigliera Alessandrini, le priorità? Le priorità per la città sono elencate per il Movimento 5 Stelle in tre principali linee di azione che sono quelle della città sicura, della città sostenibile e della nuova Pescara. Tutti i filoni completamente assenti nell'aggiornamento del documento unico di programmazione presentato ieri in consiglio dal sindaco Masci. Una città più sicura, quindi in cui c'è bisogno di un'azione da parte delle forze dell'ordine ma anche di azioni sociali e continuiamo a proporre l'istituzione di un ufficio dedicato alle periferie che quindi possa inserire una serie di interventi ad ampio raggio sul sociale, sulla struttura territoriale, sull'urbanistica, mettendo insieme anche gli enti che si occupano proprio di programmazione e di volontariato. Altre cose riguardano proprio la riqualificazione della nostra città. Per esempio la messa in sicurezza dell'asse attrezzato. 15 milioni di euro dell'ANAS per quanto ci riguarda non devono essere utilizzati per abbattere lo svincolo a trombetta. Questa non è una priorità della città da compiere entro l'anno. Invece c'è bisogno di impiegare questi soldi ad esempio per la messa in sicurezza dell'asse attrezzato. Abbiamo visto ieri tanta carta consegnata al protocollo. Ci sorprende come l'ex presidente del Consiglio, Pagnanelli, che quando vedeva centinaia di foglie da parte del Movimento 5 Stelle non batteva ciglio nel dichiararli inammissibili e nel farli decadere. Ci sorprende che questo atteggiamento da migliaia di fogli invece lo abbia portato in Consiglio nella prima occasione utile. Fa davvero sorridere la coerenza di certi personaggi. Fa sorridere innanzitutto che la consigliera Alessandrini non si sia resa conto che nel frattempo è cambiata l'amministrazione comunale e il presidente del Consiglio comunale non è più il sottoscritto. Ma evidentemente lei continua a considerare presidente il sottoscritto. Questo in parte mi fa onore, in parte mi fa sorridere. Ma la differenza è questa, è che nella passata amministrazione il Movimento 5 Stelle più e più volte ha presentato centinaia se non migliaia di emendamenti fatti con il ciclostile e privi di alcun contenuto migliorativo della delibera. I nostri emendamenti invece sono tutti quanti contenutistici e tutti quanti finalizzati alla modifica del DUP in un senso di visione della città completamente diversa da quella che vuole l'amministrazione comunale. Quindi non si tratta di scegliere se presentare o non presentare tanti emendamenti. Ciò che conta è il contenuto degli emendamenti. Quindi ripeto, la consigliera Alessandrini pensasse a fare opposizione oggi e a vedere se effettivamente è contrario o favorevole alla delibera e a togliersi dalla testa i precedenti scontri evidentemente ancora non digeriti con il sottoscritto.